al banchetto eucaristico. 5 dicembre 1974. Figli di Letti, eccovi qui ancora con sentimenti di riparazione e di amore. Io sono qui con voi e, come un mendicante divino, accetto tutto ciò che mi donate e ne faccio tesoro per voi. Sono Gesù, divin prigioniero dei tabernacoli, sempre desideroso di amore. Io attendo le anime accanto a me. Voglio fare con esse una vera unità. Voglio che possano partecipare alla mia vita. Ieri vi parlai della comunione natalizia. Oggi insisto ancora perché la vostra comunione ben preparata deve segnare un punto di partenza nella vostra vita spirituale. Vi ho detto che dovete accostarvi al banchetto eucaristico con sentimenti di profonda umiltà. Oggi vi invito a riflettere sul mio comportamento perché possiate fare altrettanto. Vi parlai della moltiplicazione dei pani, che era simbolo dell'eucaristia. Ebbene, figli, prima di operare quel grande miracolo, io compii due azioni di capitale importanza, che non dovrebbero mai mancare quando vi avvicinate a me. Avevo pregato per lunghe ore nel silenzio della notte e, sceso dal monte su cui avvenivano i miei incontri particolari col padre. Avevo risanato e curato molti malati nel corpo. Erano ciechi, storpi, zoppi, paralitici e sofferenti di ogni categoria. Ecco ciò che desidero da voi quando mi ricevete. La comunione sacramentale non deve essere un atto qualunque, compiuto con leggerezza, come se compiste un'azione qualsiasi, ma la preghiera deve servire a preparare l'azione e la deve seguire. Dove pregherete? Dovunque è il Signore. Nel segreto del vostro cuore, potrete desiderarmi e invocarmi nel silenzio o nel trambusto della vostra casa, durante il lavoro che vi occupa la maggior parte delle ore. Dovunque potete elevare il vostro atto d'amore e il vostro invito a venire nel vostro cuore può realizzare una perfetta unione. Sarà la preghiera spontanea, come quella del bambino che chiede un dono al padre suo, o la preghiera raccolta e accorata di chi desidera il medico delle anime per essere guariti dalle infermità. Qualunque sia il vostro modo di comunicare con Dio, deve venire come una sorgente d'acqua dal vostro interno che vada a dissetare il vostro Gesù, prima ancora che voi stessi. Poi vi è la seconda azione. Quella caritativa. Vorrei che poteste venire alla comunione con le mani piene di opere buone. La carità, intesa nel suo vero senso, cioè quell'atto d'amore che date al fratello perché possa goderne e perché senta meno triste la vita, è la preparazione migliore alle vostre comunioni. Non intendo che questi atti di bontà si limitino ad un sentimentalismo inefficace e nemmeno che si riducano ad un'elemosina fatta più o meno con larghezza o più o meno bene, ma devono essere un mettersi nella situazione di chi soffre, forse senza colpa propria, per capire tutta l'intensità del dolore e dare con la parola, con l'azione e con quei mezzi disponibili aiuto ai fratelli. Vorrei veramente che i miei seguaci sapessero capire che, se è indispensabile la preghiera, se si può fare alle anime un discorso convincente, non si può arrivare alle intelligenze e al cuore se non attraverso quella bontà che fa capire le necessità degli altri. Sa farle proprie per sopperire ad esse. Figli di Letti, sappiate, vi prego, in ogni evento lieto o triste guardare in alto e invocare con la preghiera la provvidenza del Padre. Ma sappiate andare incontro agli indigenti con cuore e mani aperte perché siete tutti figli di uno stesso Padre. Le vostre debolezze e le vostre lacune io le conosco. Ma sappiate superarvi e fate della vostra vita un dono d'amore. L'Eucaristia è il mio dono ai figli. Ma serva ad unire i figli fra di loro. Forse avverrà che, dopo una comunione ben preparata e ben ricevuta, abbiate a conservare come un prezioso tesoro nel cuore le mie parole, così come faceva la mia Santa Mamma, e che gli altri rimangano attratti dalla carità che vi domina e vi fa agire. Vi benedico, figli. Rimanete nel mio amore e nella mia grazia.